ma sta un bel minuto straight from the top of my dome freestyler rock the microphone carry on with the freestyler devi seguire il teclamacura eh ahahahah 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 sarà eh domani su youtube ahahahah ahahahah quant'è il controllo ahahahah ahahahah ma ti chiacchia tutto devono essere 4 io e non me ne oh no no non le vado a freestyler